Ragazzuoli, ciao a tutti belli e brutti, altro video di giornata, altro video di giornata, allora intanto iscrivetevi al canale, ovviamente like, campanellina, iscrivetevi anche all'altro canale, ovviamente quello della gattina, vi lascio sempre il link, sono in pressione, mi raccomando ragazzi dai, facciamo crescere questo canale che si sta muovendo, piano piano si sta muovendo ragazzi dai, fate una cortesia a Michelone qui, che Michelone è una brava persona e vuole bene a tutti, meno che agli stigatori, questo sempre sottointeso, allora questo video parliamo di Dusan, Dusan, perché adesso è il, adesso Dusan sarà la tiritella del calciomercato tra poco sicuramente, io vi dico che per me Dusan è già a Madrid, è già a Madrid, se non fosse stato per il fatto che il Real Madrid ha bloccato tutto e Dusan sarebbe stato ceduto al Manchester, questo è quello che dicono i più esperti, doveva andare al Manchester United, solo che siccome si è intromesso il Real Madrid, che ovviamente con la Juventus ha di ottimi rapporti, ha bloccato tutto perché ovviamente Benzemaccia ha la sua età, nonostante sia meglio lui ancora di Dusan, ovviamente, dispiace, dispiace, guardate che quando è venuto Dusan io pensavo veramente che era il dopo Ronaldo, quando facevano le pubblicità di V7, qua dell'auto, avevano fatto quelle pubblicità proprio che ti gasavano, gasavano e dico porca miseria è arrivato il bomber qui dei prossimi vent'anni, invece qui ragazzi a me dispiace per quel ragazzolino in una maniera incredibile perché cadiamo sempre lì, io lo capisco all'allenatore perché quell'allenatore lì, ma qui vi do ragione ragazzi, c'è solo che io continuo a puntare sempre il dito sulla società perché queste sono le conseguenze di una società che è una distruttrice invece di essere una che costruisce, ragazzi siamo sempre lì, un giocatore che viene dalla Fiorentina tu non puoi pagare 90 milioni di euro l'intera operazione, ma è da folli, è da folli, purtroppo è che lì si sono fatti prendere la gola perché se no era già in orbita estera e la Juventus ha fatto un, si è premuta il sangue nelle vene per comperarlo, ma come vi dico io non è perché tu un giocatore lo paghi 90 milioni e gli dai 7 milioni, 8 di ingaggio che valga veramente quella cifra lì, questo qui è giocato solo con la Fiorentina ragazzi, questo qui è giocato solo con la Fiorentina, dopo lì magari era un fenomeno perché Firenze, Fiorentina, Fiorentina è Fiorentina, è come Moise Cain, facciamo l'esempio, lui faceva il Cagón, il Cagón perché era un po' meglio quando era nella primavera perché era uno un po' cresciuto, era tecnicamente diciamo tecnicamente più forte degli altri, poi quando è venuto in prima squadra fa cagare perché il livello rimane quello, magari sarà in un'altra metratura e Dusan sarà magari la stessa roba, non lo so questo qua, però ragazzi a me è deluso tanto quel ragazzo lì, ha deluso tanto, ha deluso veramente tanto e ragazzi ci sono tutti, tutte le punte hanno il loro periodo perché mi ricordo che anche Leutaro Martínez per dire all'Inter sei mesi senza segnare, capita a tutti, anche Benzema, anche lo stesso Ronaldo ha avuto dei mesi di appannamento che non riusciva a segnare Real Madrid, però questo ragazzo, cari miei, non riesce, proprio non c'entra niente con il gioco, gioco si fa per dire, spiazze ragazzi, spiazze per questo, per questo, perché io lo so che quando andrà in un'altra squadra dove ci sono veramente giocatori forti tipo Real Madrid, che sono lì che sono veramente tutti forti, tutti campioni, e lì li metteranno dentro 50-60 palli a partita e farà 2-3 gol minimo, ma io lo so che andrà a finirla così, perché lo so che andrà a finirla così e io vi ripeto che sull'allenatore io vi do ragione, guardate che io ve lo ripeterò per la stramiliardesima volta che io Allegri non l'avevo mai ripreso, ma mia mamma che non ne capisce un cacchio di calcio ha detto di nuovo Allegri, neanche lei non lo voleva, non si vedeva le bestemmie che tiravo negli ultimi due anni, negli ultimi due anni, no i primi tre, negli ultimi due, e questo ci ha riportato il fenomeno lì che suo cugino ha mandato via, questo ci ha riportato, queste sono le conseguenze di una società, di una società inesistente, una società che ha distrutto tutto, tutto quello che aveva costruito Marotta e Conte, ma anche Allegri i primi due anni, due anni e mezzo, questi sono dati fuori, è tutta una catena ragazzi, è tutta una catena, tu non puoi andare a riprendere anche un Ken lì, quello lì lo vendi a 28 milioni e lo riprendi a 30, 32, neanche non lo so quanto, mi pare che l'ha venduto a 20 e l'ha ripreso a 28, ma roba folle, roba folle ragazzi, roba da fuori di testa, e cosa gli vuoi dire? Poi dici, magari questo Dusan sarà veramente un pacco perché tutti i giocatori che sono stati impresi negli ultimi anni fanno tutti i cagare, come vi ripeto, tutti i giocatori che la Juventus ha dato via in prestito all'esterno non gioca nessuno, ma tanti non sono neanche convocati in prima squadra, non sono neanche in panchina, Ardo è sparito, l'unico che gioca e neanche sempre da titolare è De Ligt, ma De Ligt mi piange il cuore, mi piange il cuore per quelli che davano contro De Ligt, che sono proprio dei rincoglioniti ragazzi, un campione avevamo in difesa e ce lo siamo infatti scappare via, perché purtroppo questa società, questa società, questo allenatore, sono quello che sono, quello che sono, ma ormai li abbiamo capito tutti, quello che non riuscirò mai a capire è che noi tifosi vedevamo con i nostri occhi quello che stava succedendo e ci facevamo delle domande, dico ma che cazzo fanno questi? Cioè noi vedevamo dagli fuori che era tutto sbagliato, gente ma anche io la pensavo che stavamo diventando peggio della peggiore inter, l'abbiamo superata ragazzi, siamo uno schifo totale e c'è gente ancora che difende quel maledetto di Agnelli, poi gente che lo difende ancora gli 8 o 9 scudetti lì, porca puttana di una porca puttana, c'ho un veleno io con quello lì, adesso cado sempre lì io, ma perché io quello lì lo stramaledirò sempre per tutta la vita, quello lì lo stramaledirò. Comunque tornando su Vlaovic a me dispiace, 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 perché io non lo cederei, io manderei l'allenatore insieme ai Bonucci, ai Rugani, ai Alexandro, ai Quadrado, andiamo avanti ai Paredes, ai Ken, lì c'è da fare una pulizia ragazzi, che voi non avete la minima idea, sì ovviamente io Miretti me lo tengo, per me è un scarpone ma io come panchinaro me lo terrei, e poi c'è da rifare ragazzi, mezza squadra da rifare, mezza panchina da rifare, voi continuate ancora con questa trafila che abbiamo nella squadra più forte del campionato, voi ragazzi siete fuori di testa, siete fuori di testa ragazzi, o non avete visto le Juventus degli anni prima o se no ragazzi avete i neuroni che ormai sono partiti, sono partiti, uno che mi dice che decidio uno dei migliori terzini, che Paredes è un campione, ragazzi guardate che io li ascolto ogni tanto per me due cose, o siete veramente fuori di testa, o prendete in giro le persone, perché quelli che dicono queste cose qua, per me prendono in giro le persone per far visualizzazioni, per non so, io questi qui li insulterei, li insulterei dalla mattina alla sera, perché tu non puoi fare un rinnovo di contratto a desiglio per tre anni, va bene che non ti costa niente, ti costa un panino di mortadella col peperone dentro, ma tu che cosa te ne fai di desiglio, almeno che non lo vendi, che lo vendi, che ti prendi su un pacchetto di crackers, con i soldi di desiglio, ma non puoi, un desiglio, ma che dopo, lasciamo perdere quello che è, ma è sempre rotto, ma piuttosto mi tengo Rugani piuttosto di tenere un desiglio, alla più sporca, almeno Rugani non gioca mai, non è mai rotto, almeno diciamo che le dieci partite che fa, cinque le fa decenti, cinque fan cagare, cinque le fa decenti, ma desiglio, rinnovato per tre, cioè ragazzi è una follia, ma io parlare di queste cose ogni giorno mi viene mal di testa, mi viene mal di testa, ve lo giuro, ve lo giuro, maledetto di un Agnelli, ti stramaledico, tu, hai tutta la tua generazione che ci siete venuti tra i coglioni, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, like, campanellina, mi raccomando, e un bacione da Michelone che adesso devono andare a fare i 7.30 e mi vengono due palle a dargli 50 euro per fare delle carte che dovrebbero essere gratis, perché quelle lì sono per aiutare la gente, invece loro vogliono i soldi, una roba, a me buttar via i soldi così mi dà fastidio, mi dà fastidio, io sono un spendacione, no che li butta via i soldi, sono uno che piace spendere, ma dare i soldi a pagare tasse, 7.30, è il dentista che sono soldoni, quelli sono i soldi che a me gira di più i coglioni spendere, li andivagate voi direte che cazzo me ne frega, però così per parlare, un bacione a tutti, belli e brutti, un bacione a tutti, perché Michele vuole bene a tutti, meno che a quelli là, al solito, iscrivetevi al canale che un iscritto al giorno toglie il medico di torno, ciao ragazzi